Gara senza emozioni, più che altro motivazioni quelle esterne di uscire da una zona delicata. Lo conferma anche Mancini che aveva chiesto fami ai suoi perché il filotto di tre pareggi e due vittorie del Paternò non poteva tranquillizzare con un precedente che all'andata aveva rimandato a casa a mani vuote proprio gli amaranto della Locride. Dunque 15 minuti finali in svantaggio, un rigore quasi concesso nel recupero, espulsi e sconfitta casalinga al Barone Macri di Locride. Parrotta all'ottavo ruba un bel pallone per ripartire al quindicesimo Zaric, salta l'uomo e impegna Mittica. Al diciannovesimo Pagano tenta il colpo dalla distanza. Al ventiquattresimo Mittica in maniera scomposta interviene su Zaric fuori aria, Martino di Firenze fa giocare. Si organizza allora il Paternò, Saverino mette in mezzo per Damore anticipato al momento del tocco. La punizione di Cozza al ventottesimo non è un cross pungente ma dieci minuti più tardi la triangolazione Saverino-Aquino-Saverino invece convince anche se la conclusione è alta. La ripresa è decisiva per reti e provvedimenti. Parrotta interviene in torsione aerea ma è più efficace e Damore al quinto minuto quando dà limite da effetto alla palla che Gagliardotto smanaccia ad altezza traversa. Ancora Gagliardotto al settimo minuto quindi ancora Paternò con il duo De Vivo-Aquino. La risposta di La Rosa non si fa attendere, il tiro è ben calibrato come fosse una trasformazione da palla inattiva. Non c'è due senza tre ed ecco il portiere dell'Ocri fermare il tiro di Ankovic sulla linea di porta. Al ventinovesimo l'episodio gara. Il rigore concesso al Paternò è un biglietto da visita per un veterano come Bontempo, non a caso in passato investito di riconoscimento come miglior difensore di serie D e pedina di una difesa imbattuta in tutta Italia. Il Locri dunque recrimina un rigore per il tocco di mano in aria al diciassettesimo e quello prima concesso poi negato nei sei minuti di recupero dopo consulto con l'assistente Manzini. A prevalere in questo caso è stata la segnalazione di fuorigioco, espulsi nel contempo Capitano Aguino, il segretario Portulesi e mister Mancini.